Sì, fortunatamente sta andando bene, siamo riusciti a riprendere questa partita con grande spirito di squadra e bisogna continuare così. Sì, non mi ricordo se ci ho giocato uno o due volte. E il campo è quello dell'arrivo di Salò che partirebbe da aspettare perché non lo conosciamo? Non ci ho giocato all'andata con il Seregno perché avevano fatto dei lavori al campo e non hanno giocato nel loro campo. E quindi non lo conosco neanche io. Sul campo abbiamo visto anche stasera una squadra organizzatissima, quindi sicuramente sarà una grande partita. Sicuramente ci dà più carica, anche perché gioca uno gioca l'altro, siamo un grande gruppo, un grande spirito di squadra, l'abbiamo dimostrato in questi play-off perché siamo sempre riusciti a riacciuffare il pareggio per passare il turno e non è da tutte le squadre, secondo me. Siamo sicuramente penalizzati, però la rosa chi gioca gioca è forte, quindi per noi non è un problema. Il mister è entrato negli spogliatoi, arrabbiato sì perché non si può sempre rincorrere e si possono evitare certi gol magari, però ci vuole carichi, quindi andremo a vincere questa partita.